Un saluto dal Tg della Mobilità. I parioli andranno avanti sino a venerdì lavori di rifacimento del manto stradale a Via dell'Agonistica. Sarà deviata la linea 52D in arrivo da Via Archimede. Il cantiere si fermerà nel fine settimana per poi tornare attivo per altri 5 giorni, dal 7 all'11 marzo. Via Palestro è stata riaperta al passaggio dei veicoli pesanti nel tratto compreso tra Via Cernaia e Via 20 Settembre, ripristinati i normali percorsi delle linee 16, 60, 61, 62, 66, 82, 90, 492 e N66. Riattivate, tre fermate. È tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.